Eccoci, l'abbiamo preannunciato. Prima di questa pausa andiamo a collegarci con la meravigliosa Albero Bello, con la professoressa Fenisia Gramolini, che è presidente dell'Associazione da Betlemme a Gerusalemme di Albero Bello, che anche quest'anno presenta, celebra il Natale con due presepi. Buongiorno professoressa, benvenuta. Buongiorno. Grazie, grazie a voi e anche ai telespettatori. Che meraviglia. Dove si trova esattamente? Ora sono nell'Aia Piccola, che è un quartiere di Albero Bello antichissimo e diciamo che qui si è conservata quella che è la vocazione naturale di questo luogo, che si presta proprio ad essere un presepe. Si chiama così perché questi trulli formano delle piccole aie, dove un tempo i contadini che abitavano questa zona si riunivano sia per lavorare sia per momenti di festa. E noi riproponiamo proprio questo, nel presepe vivente soprattutto, che è un presepe che è giunto alla 53esima edizione ed è a percorso e a copione. Quindi i nostri visitatori si muovono all'interno del presepe e trovano davvero un presepe vivente, nel senso che hanno la possibilità di incontrare abitanti che si muovono all'interno con antichi mestieri, quindi un recupero delle tradizioni. Ma soprattutto in scene che cercano di sottolineare e ampliare il messaggio che ogni anno noi scegliamo e che non è mai uguale, fermo restando il fatto straordinario, storico, ma cristianamente profondo della nascita di un Dio. Un Dio che si fa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi. Quindi questa è la Ia Piccola, qui abbiamo collocato anche il presepe di luce che è alla sua terza edizione, mentre il presepe vivente, come dicevamo, è alla sua 53esima edizione. L'associazione ha pensato nel 50esimo anniversario del presepe vivente di poter donare a questa città un ulteriore presepe, che è quello di luce, che resta aperto, resta installato fino al 2 febbraio e inizia nella prima domenica d'avvento. Proprio perché altri visitatori possano vivere in questa zona l'esperienza del presepe e in un modo immersivo anche per poter riflettere sul tema che quest'anno è fiorire lì dove Dio ci pone. Un tema bellissimo che i nostri visitatori delle prime due serate del presepe vivente, ma anche quelli del presepe di luce, stanno scoprendo come efficace ed è declinato in tutte le sue possibili accezioni e i suoi possibili significati. La frase, mi preme sottolinearlo, non è mia e viene da un sacerdote, non è nemmeno di tutti noi, ma da un sacerdote guanelliano che è vissuto da Alberobello per più di 26 anni, è stato padre spirituale di tanti di noi, nella parrocchia Sant'Antonio che è affidata proprio all'opera Don Guanella. Non stava molto bene nell'ultimo tempo della sua vita e un giorno quando mi avvicinai perché aveva bisogno di assistenza, sapevo che aveva un po' timore di dover essere aiutato da altri a vivere in quel momento, ma mi guardò e il suo sguardo ce l'ho ancora negli occhi e nel cuore. Mi disse Fenisia, dobbiamo imparare a vivere e a fiorire lì dove Dio ci pone, anche quando il luogo dell'anima, quello geografico, quello delle situazioni della vita ci pongono insomma delle difficoltà e facciamo fatica a fiorire in quei luoghi ma invece bisogna saperlo fare. E' quello che raccontiamo all'interno del presepe in una delle scene, ma raccontiamo anche che noi siamo simili ai fiori, possiamo nascere qui, c'è la zona del mercato del nostro presepe vivente ed è la zona in cui viene raccontato che l'umanità è simile a fiori, ognuno nasce e fiorisce a proprio modo. Abbiamo anche la possibilità di invitare i nostri visitatori a riflettere sul fatto che la nostra vita è tutto un fiorire se lo vogliamo e se accettiamo appunto di essere lì dove siamo. Ci sono però anche dei giovani all'interno di queste scene che chiedono ai propri genitori di andare altrove, ricordando che i figli non sono nostri, i figli noi non possiamo trattenerli, dobbiamo permettere loro di volare altrove e di fiorire nei luoghi in cui vogliono, in cui desiderano, in cui Dio molto probabilmente ha tracciato il solco più giusto perché possa sbocciare al meglio. Molto bello, molto bello il suo racconto, davvero ricco di significato. Tra l'altro, ecco, mentre lei parlava abbiamo visto tante immagini molto belle, abbiamo visto il riferimento al presepe anche della luce con le luminarie tipiche della tradizione pugliese. Io volevo chiederle ancora una volta, ecco, durante queste festività quali sono gli appuntamenti che non possiamo mancare ad Albero Bello? Allora, senz'altro queste ultime due serate di presepe vivente, sono stasera e domani, sono le ultime due e poi come ho già detto c'è la possibilità di visitare il presepe di luce fino al 2 febbraio. Poi nella zona Albero Bello è ricco di tantissime altre attività. Ci sono attività organizzate da altre associazioni e quindi noi vi invitiamo davvero ad essere. Infatti tutto questo è merito non soltanto dei volontari della nostra associazione ma anche del grande sostegno dell'amministrazione comunale del nostro paese che veramente ha preso a cuore tutte le iniziative di tutte le associazioni insieme a quelle anche la nostra e le hanno sostenute, le sostengono in modo efficace. Questo insomma è un segno importante perché ci si sente accolti e ecco ed è un gioco di squadra, un grande gioco di squadra. Per cui venire davvero bene in questi giorni, concerti, villaggio di Babbo Natale, altre attività, ci sono veramente, potremmo dire per tutti i gusti, non è la parola giusta. Però rende l'idea, rende l'idea. Grazie, grazie alla presidente dell'associazione da Betlemme a Gerusalemme, Fenisia Gramolini, grazie a tutta la squadra. Ci risentiremo perché voi oltre al presepe vivente organizzate anche la passione vivente, quindi ci sentiremo proprio in vista poi della quaresima e della Pasqua. Grazie ancora. Grazie, grazie a voi per questo. Vi auguriamo di fiorire, sbocciare e seminare lì dove Dio vi ha posti, nel tempo e nel modo che accolgo la vostra vita. Grazie mille. Che bello augurio, grazie, grazie alla professoressa Gramolini che ci ha regalato questa cartoria ad Alberobello, una splendida giornata di sole, lo sfondo dei trugli. Stavo pensando proprio questo, da buoni pugliesi tante volte siamo stati ad Alberobello, però non ci si annoia mai, per cui ti confesso che un pensierino ce lo faccio tra oggi e domani. Tra oggi e domani, bene, allora se andrai domani ti metterai lì e farei un collegamento per noi, caro Tony.